Molto bene, adesso cerchi di tenere lo sguardo fissa in questo punto, segua il mio dito per favore, si va molto bene, guardi a sinistra, guardi a sinistra, guardi a destra, guardi a sinistra, segua il mio dito per favore. E' la prima volta che si presenta a questo tipo di esame, guardi a sinistra, sbatta gli occhi molto velocemente, per favore. Grazie. Grazie.